Marco Valerio Loprete, quali sono o qual è la parola o le parole del futuro? La giornalista e da conoscitore del dibattito pubblico direi che la parola del futuro potrebbe essere contraria. La parola del futuro potrebbe essere contraria. Quando assorbiamo informazione, quando facciamo informazione, quando ci poniamo sul lavoro, nell'impresa, assumere un atteggiamento sempre scettico e a volte anche il coraggio di andare contro corrette, anche contro delle conoscenze costituite, dei mantra che sono spesso ripetuti e proprio quelli bisogna provare a sfidarli, a falsificarli, a vedere se davvero sono così come si è.